Sabato 4 e domenica 5 luglio, la vela agonistica italiana è ufficialmente ripartita grazie alla flotta Melges 20, che riunitasi sull'Alto Lago di Garda, precisamente a Malcesine, ha completato la prima serie di regate del 2020. A comporre la flotta prevalentemente di nazionalità italiana per via delle restrizioni imposte dalla pandemia, anche l'equipaggio Corinthian di Siderval, di cui fa parte l'armatore Marco Giannini, consigliere dell'Avas di Lovere. Il 32enne, cresciuto nell'associazione Velica Alto Sebino, ha dettato legge insieme ai suoi compagni, guadagnandosi al termine della due giorni il titolo di King of the Lake. Abbiamo ripreso appena possibile attorno al 10 di giugno, abbiamo fatto un paio di allenamenti e via subito con la prima regata. Siamo stati tra i fortunati a poter partecipare alla prima manifestazione organizzata dalla federazione, è stato il primo atto della Melges World League Melges 20, è andata molto bene, anche se gli equipaggi erano pochi, erano comunque agguerritissimi, si è riusciti a vincere questa prima tappa. Speriamo di riconfermarci a breve, visto che tra dieci giorni avremo il secondo evento a Scarlino, speriamo innanzitutto di vedere sempre più equipaggi, riprendere l'attività e soprattutto confermare le performance ottenute nell'ultimo evento. Siamo un equipaggio molto giovane, siamo un equipaggio Corinthian, cioè senza professionisti a bordo, siamo principalmente quattro amici, tre di noi regatavano insieme in 4,70, 10, ma anche 20 anni fa si eravamo conosciuti proprio perché regatavamo nelle stesse classi. Abbiamo avuto la fortuna, finita l'università e iniziata la carriera lavorativa, di averla voglia, lo stimolo di continuare ad andare a barca insieme. Abbiamo comprato questo Medges 20, è una barca appunto da 20 piedi, molto performante, votata chiaramente alla regata, molto meno, anzi per nulla, alla crociera. Dal punto di vista del livello internazionale è molto elevato, ci sono grandissimi velisti, ex olimpionici e professionisti da ogni parte del mondo e questo rimane un po' lo stimolo più bello, quello di poter gareggiare con loro e se possibile anche batterli. Numerosi gli appuntamenti annullati e posticipati a causa del Covid, ma in calendario in autunno resta l'evento più atteso, il campionato del mondo di Punta al Dia. La fortuna principale è quella che l'appuntamento clou della stagione, che è il mondiale in Sardegna, Punta al Dia, a metà ottobre, quello è stato confermato e rimane un po' l'appuntamento più importante per la nostra stagione, chiaramente adesso faremo un po' di tappe, di avvicinamento e poi l'obiettivo principe rimane essere in forma per la prima metà di ottobre e dare fuoco alle polveri nella competizione iridata. Io sono cresciuto velisticamente all'Overe, faccio parte del circolo dell'Avas dal 1998, sono ormai 22 anni che bazzico sul lago, chiaramente dal punto di vista dell'esperienza velica mi sono spostato anche a Genova, sul mare, chiaramente per poter aumentare le proprie competenze tecniche e anche poter sfidare equipaggi magari più preparati, più titolati, però ecco sono assolutamente un valligiano 100%, insomma prima o poi all'Ovili si ritorna sempre, questo è uno di quelle storie, di quei lunghi viaggi che prima o poi ritornano e da due anni a questa parte faccio parte del consiglio dell'Avas e tentiamo di dare una mano al circolo che sicuramente ha bisogno di risollevarsi o comunque di forze fresche per scoprire nuovi talenti o comunque nuove persone appassionate alla barca a vela.